Ci sono giorni in cui capisci che è arrivata la volta buona. Sì, magari sei un po' spaventato, ci hai già provato tante volte e niente. Ma sai che stavolta, con un po' di fortuna, arriverai fino in fondo. No, non sono io quello. Un po' più giù? Un po' più giù. No, neanche quello che state pensando in questo momento. Diciamo che sono molto più piccolo, ma molto, molto più piccolo. Ecco, quello sono io. Un semplice spermatozoo. Uno dei tanti, forse troppi. Comunque, l'importante in momenti decisivi come questo è avere a fianco un buon amico. Ciao, pallito. Ciao. Oh, mi sa che stavolta ci siamo, eh? Ma figurati, è la quarta volta che la porta fuori a cena, le paga il conto. E lei cosa fa? Mi accompagni a casa. E non succede mai niente, sì, non succede mai niente. Io sento che stasera è diverso. E poi guarda, ti stanno già dando i bacini. Sì, al secondo bacino la guarda ancora lì e fa... Non me la sento, perché non va a casa tua. E lui, perché non siamo della gleba, ubbidisce. E cosa fa? Va a casa indriffato come una simpatia del Congo del Congo belga. Si tocca e quante perdite abbiamo avuto, quanti amici abbiamo perso per queste cose. Secondo me, faresti meglio a prepararti. Perché? Ecco perché! E poi si fa nulla può da raccani e porci, non è giusto? No, no, ma è innamorata, eh! E soprattutto, lo sai che se non parti pure stavolta finisci dritto dritto lo smaltimento cellule vecchie? Oh, cazzo, ma pettorina! Fermando noi alla griglia di partenza! Prendimi lo zaino! Sì, dov'è? È lì! Oh, porca! Prendi lo zaino! Ciao! Fammi il nodo! Sì! Prendi lo zaino! Vabbè, ciao, eh! Io vado, ciao! No, non te ne andare, ti prego! Le cellule morte mi imbazzeranno, te le dà! Torna indietro! Ma devo andare, se non faccio tardi! Torna indietro! Vabbè, muoviti! Fammi il nodo! Pertorino! Quanto tempo abbiamo? Eh, direi... Direi almeno 5 minuti, sì! Pronti? 3, 2, 1... Via! Muoviti! È tutta colpa tua! Via! È lui che soffre di accolazione precoce! Muoviti! Scusa! Certo che essere ultimi è ancora prima di incominciare! Sì, ma almeno non hai fatto falsa partenza questa volta! Ma questo è vero! Hai fatto doppio nodo alle scarpe? No, perché? Perché se lo inciampi, cretino! No! Ciao!